Perché Lughe è Lughe, 43 centici Si sono un po' andati a sfanculizzati Con la nuova modalità di Youtube Si sta sfanculizzando sempre di più Dunque vi invito e vi ricordo Di andare a mettere like più volte Ok? Vi ricordo anche che questo video Sarà in Premiere Quindi lo vedrete in anteprima su Youtube Con questa nuova modalità Saluto tutti quelli della Premiere Commentate, condividete, lasciate like E suggeritelo a tutti i vostri amici Mi hanno detto che questo robot qui Va rotto dalla Adesso voglio provare Devo farmi un coso di diamante Io non ho diamanti però È quello il problema anglosassone che mi affligge Non ho diamanti Vabbè vedremo Lo faremo con quello di diamante ragazzi Lo toglieremo Oggi facciamo un po' di cosette Nuove, eh Nuove Figole Eccetera Eccetera Oggi è venerdì Quindi buon venerdì a tutti Se volete un secondo episodio anche oggi Non è sicuro Dovete lasciare più like possibili Perché ieri non li avete raggiunti, eh Siete rimasti calza uni Siete rimasti calza uni Allora Apriamo queste cestiche E vediamo ritrovare qualcosa di Ma perché a me Ma perché a me non mi dai cose buone Ma perché Perché mi tocca guardare i video Degli americani E trovano il mondo Io apro e trovo il nulla Porca di quella Borca Valero Dai però Così non va bene Così non andiamo proprio d'accordo Poi e te Eh Patacuzzi Eh E che Pasqua Allora Vi le patate Vi le palpette E abbiamo l'inventario GG for you Abbiamo In questa cestica Abbiamo L'Ansient Spore Me ne serve una Abbiamo della terra Abbiamo il trapano Quindi io farei una cosa Un po' Qua dietro Mi sa più che va bene Facciamo single block Andiamo un attimo qui Ok Facciamo una cosa Vi Facciamo un 3x3 Cioè più che facciamo un 3x3 È un 3x3 Mi serve un 3x3 Facciamo così Zaccate E mettiamo la 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Patancate Fatto Li mettiamo l'Ansient Spore Che diventa il micelio No ragazzi La cos'è la motion Non mi ricordo più che si chiama Ma è in italiano In inglese Ora Fatto ciò Dobbiamo creare Con del legno Questo rumore che sentite Sono gli iscritti Che mi stanno arrivando Su Twitch Ragazzi Vi ricordo Twitch Luke4316 live È il mio canale Twitch Cercatelo O c'è il link in descrizione Tutte le sere Sono in live Quindi venite a trovarmi Ok Ok Anche stasera Dovrei essere live Non so Se faccio CS O Minecraft Voi nei commenti Scrivetemi Cosa vorreste CS O Minecraft Cosa preferite Minecraft Non questo pacchetto Ma uno nuovo Che sto facendo in live Ora Andando a prendere Il barbabietolo Vi faccio vedere Vabbè sono cose che già sapete Molti di voi Ma ragazzi Io devo spiegarle sempre Perché molti Ogni giorno si aggiunge qualcuno Che non conosceva Minecraft Non conosce Minecraft moddato E bla 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 Quindi Mi sembra giusto E onorevole Spiegare agli altri Stasera è live Mi sa che faccio CS Non lo so Proprio voglio giocare CS Roll to rank Mettiamo l'acqua Eh no Ho fatto una cagata Mi serve l'acqua qua Lì ci mettiamo L'acqua dentro E voilà E anacquiamo Allora Anacquando Ora l'erba La terra diventa Dovrebbe diventare Mushroom Come quella sotto No Mentre l'acqua Vedete Sta cambiando Si sta trasformando Più Di queste a terra Abbiamo Più l'acqua cambia Cioè più l'acqua è veloce Però non sta cambiando Perché? Ma funziona Sto secchio Facciamo che tanto Noi di quella roba lì Abbiamo tanta no? Facciamo una cosa del genere Guardate Ma si Ma si Magari serve la luce Non lo so Magari serve la luce O magari serve il buio Perché È di Ambaradam Non lo so Riproviamo Dammi qua 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11 E 12 Questo è l'allenamento al pollice Alla Vabbè Avete capito Eh si Servirò la luce Credo Allora guarda Guarda Fatto Ora è molto più veloce Vedete 8 9 20 Dobbiamo attendere Il 100 Ok Mentre attendiamo Il 100 La Io ho quanto tanto Piantato con la roba lì Mentre attendiamo Il 100 La Io farei Qualcos'altro Nel frammento Tempolo Allora Andiamo qui Nella zona Che è dove Lavoreremo A vedere un po' Com'è Allora Sta arrivando Della roba Fantastico Io qui Innanzitutto Che innanzi Fruttolo 1 2 3 4 1 2 3 E 4 Ok Eh Perché va bene Tutto Però non ci prendiamo per i fornelli Oh là Lo allarghiamo tutto qui Lo allarghiamo tutto E Così Dovremmo essere Giusti O no Luce E Luce Ok 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 Ora la stanza Non è una delle migliori Perché sono 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Si è giusta Ma è sballata l'entrata Almeno che io non sposto l'entrata di uno Uno qua Eh si Mi prendo Allora facciamo così Walaka 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 E rompiamo qua Walaka Walaka E walaka E ora dovrebbe essere Asimmetrico Ok Fantastico Qui quanto abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 5 6 7 8 9 Giusto 9 per 9 Oh Ora qui si può rompere Perché a me non piace lasciare I pezzi pezzosi I pezzi pezzi Madonna Madonna Rockarmone Mi dimentico sempre Mi dimentico sempre Mamma mia Ok Allora questo lo mettiamo là 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 Ok Così le pulite Le prop pulite Le prop pulite Mi ridai La leva Prima che lui Me lo leva E qua dentro Entrata la cobblestone Fantastic For you Anglosassone Babies E GG Ok Così abbiamo fatto tutta la collezione Ambaradam Fatto Ora andiamo a raccogliere Dovrebbe essere pronto 100% Zacchete Abbiamo in mano La Witchwater Secchio Ok Ragazzi questa cosa è potentissima Ora Io dovrei Io dovrei Fare una cosetta Allora Entrare Rompere Questo coso qua Ok Rompere Richiudere E spegnere le luci E attendere che qualcuno Venghi Ok Devo attendere che qualcuno Venghi Ci apriamo Un blocco sopra dopo Ora facciamolo riempire Un po' di mob Ok Nel frammento e tempolo Andiamo a vedere qualche quest Allora qualche quest Perché a me servono Delle quest Andrei a vedere Intanto ragazzi ho visto Che qua c'è un Generatore Che è slime Generator Slim Sarà delle slime Va con le slime Slime block E io di slime block Ragazzi ne ho A buttare Cioè oddio buttare No però Guardate un po' No Ne ho un bel po' Che ne pensate Potremmo generare Della corrente qui no Potremmo generare Della corrente qui no O che ne dite we O che ne dite we Eh E porca paletta Se si Dunque Allora Andiamo a vedere le quest Cosa che ci penseremo Andiamo a vedere Qua dovevo guardarne una Claim Andiamo a vedere qua Qua La storage Ok iniziamo a storare Un po' di cosette Qua intanto ho visto Una cosa interessante Iron storage crate Eh non so che cosa sia Magari lo facciamo dopo Ma nel frattempo Facciamo quello che ci serve Andiamo qua Facciamo il compacting Drawer Ok Quindi andiamo a fare Il drawer 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 Il compacting Il compacting Drawer Si fa con due pistoloni Della cosa Dell'ambaradaschia Allora Qui ho fatto una cacata Ragazzi Allora Avevate ragione voi Avevate ragione voi Ok Qui In poche parole Non è la velocità Quella percentuale Ma è la percentuale Di doppia Di drop in più Quindi è vero Io per esempio Ne metto tre a cuocere Vediamo se ne escono tre O ne escono di più Vedete Uno Andiamo dopo Intanto andiamo a prendere Delle cose Delle cose Delle cose Delle cose Questi Poi cuoceremo tutto Perché ci servirà tutto appunto Abbiamo del coal Non abbiamo del coal Però abbiamo Tanta legna Me ne ha fatti tre Vedete Eppure ho un 65% In più di drop E in realtà me ne fa tre Ne ho messi otto Ricordiamoci Ne ho messi otto Allora Nel frammento Tempolo Io andrei a cuocere Questi qua Facciamo io Faremo uno stack A questo punto Ne ho messi otto Ok Ora Non lo so Per quale motivo Non me ne do un po' di più A me Vediamo un po' Se qua Mi servono degli scheletri In poche parole ragazzi Degli scheletri Creeper Zomboli Non vedo scheletri Non vedo scheletri Dobbiamo attendere Dobbiamo attendere Mi serve Della legna Che vabbè A questo punto Romperai da qua Della legna Perché andiamo a fare Delle cosette Ok Ed è finito Porca di quella Borca Valero O magari dura di più Il carbone Non lo so ragazzi L'ho messi otto E otto me ne ha dati Avete visto Che uno ci mette La buona volontà Però c'ho ragione io Non me li da Non me li da Eh Ne ha messi 64 Mo' vediamo eh Allora Dobbiamo fare Questi qua ragazzi I basic drawer Mi servono delle cestiche Che io farei In questo modico No Andiamo a prendere la legna Che mangi già rutto O qua 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 O qua 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 Mangi rutto eh O qua 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 Via questi qua E facciamo Delle ceste Ok Delle ceste E dai però Delle ceste Anglosassoni Perché non me le fa fare La cesto Ma che sto combinando La ceste Uno Due E tre Ok Dovrebbero bastare Speriamo Ne facciamo Tre sei nove Non lo so Quanto dobbiamo fare In teoria Andiamo a vedere Quanta roba In realtà Mi serve Così manca un'occhiata Sento scheletri Non sento scheletri Allora Qual è la roba Che spesso esce La Lander Pearl Le ossa La carne Le frecce La polvere L'esperienza Siamo a sei Le stringhe Siamo a sette Siamo a sette Sette Sono quelle sicure Ah bel occhio Siamo otto E l'inferno Nove Le cose che escono Sempre 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 Spessamente Queste qua Un po' di meno Nove Ok allora C'ho ragione io Nove E facciamo nove Ne facciamo nove Allora Nove di questi Mi serve Mi serve Della legna Spiamo basti Me ne vengono Ben cinque Me ne vengono Ben cinque Altra legna Signore Altra legna Signore Altra legna Signore Altra legna Guardate qua Come continuano A crescere Questi Ambaradam Questi Ambaradam Altri due Eeeh Devo continuare a fare Tier 2 Ragazzi Devo nerdare Devo nerdare Devo nerdare Che ci vuoi fare De un nerdare 15 ne ho fatti Ne ho fatti 15 Allora va bene Ne ho fatti 15 Poi mi serviranno Ma forse oggi I servi servono I condotti Me ne servono di più R Ok Ok Ne facciamo di più Di questi qua Quindi Due stagno E un argento Mi sembra fosse così Non mi ricordo Due stagno E un argento No Fantastico Che cacchio era Due merda Due stagno E un piombo Lead serve Che pirla I tubi sono in piombo Eh Sono pirletta io Ok Ora va Ora va Ora va Ne facciamo di più Di questi tubi Che servono sempre E apriamo questa cestica Vediamo che troviamo dentro Zacchete Altri 9 di Naturcore E vabbè Allora dicetelo E allora dicetelo Mangiamo qualche cosa E andiamo a controllare Le nostre Fornax Le nostre Fornax 42 No Che pirla 42 62 64 No niente Non me le sta dando doppia ragazzi Non me le sta dando doppia Io non capisco Mi svuoto un attimo l'inventario Ferro No ho detto ferro Ferro E redstone Redstone Non ho redstone Oh santa salacca però Come dice Gigi Il ferro La redstone Non mi ricordo mai Dove esce la redstone Credo dalla dust No vabbè senza il credo Andiamo dalla dust Esce il ferro Allora E nel ferro Vabbè la redstone Ho uno stack Mentre io tritolo Uno stack Poi vorrei fare Questi quattro Quelli Compressati eh Che ho visto Che funzionano molto meglio Poi li faremo Allora Un paio di redstone Mi servono Ormai finiamo lo stack Tanto i materiali Comunque Io devo farli Comunque Ragazzi Stasera vi voglio Live E voglio i subscribe Mi raccomando Ieri un sacco di subscribe Stasera ancora E vi ricordo Che un amazon prime È gratuito E tante robette varie Poi stasera Ve lo ricordo Comunque drive Allora Facciamo così Abbiamo fatto Un po' di robetta Un po' di robetta Uno due E questi qua Così qua Me li butta sempre per terra Arrivo sempre a essere pieno E mi butta per terra quelli Allora Facciamo Dei pistoloni Ok Quindi drawer Drawer Dei pistoloni Eccoli qua Zacchetti Mi servono a legna E vabbè Certo che uno con 300 miliardi di legna Non avere legna Mi sembra un po' troppo Mi sembra un po' troppo Ho fatto due stack O uno stack e 16 Due stack Zacchetti Zacchetti Tatanchetti Uno e uno due E ci siamo Dovremmo esserci Mi manca il ferro Mi manca il ferro Na 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 Allora Zapatà Tatanchetti Fatto Abbiamo fatto questo Quindi abbiamo fatto anche la quest E voilà E voilà E voilà Ora facciamo il Drawer controller Il drawer controller Eccolo qua Un diamante Santa Margherita di Savoia Un diamante Come cacchio Lo prendo il diamante io Come lo prendo il diamante io Dalla gravel E abbiamo un bel 3% Dalla gravel Va bene E' arrivato il momento E' arrivato il momento Ragazzi Di fare Di fare Il sieve Il sieve Questo qua E' arrivato il momento Niente da fare E' arrivato il momento E' arrivato L'arrotino 5 No 5 4 E' arrivato L'arrotino Signori E' arrivato il momento Bambete Lo andiamo a mettere qua Io lo andrei a mettere Lo andrei a mettere qua Guardate Lo andiamo a mettere qua E li mettiamo quello Di diamante Ehi Ehi Ah Che pirlo Uh Che pirlo Qua l'avevo messo Eccolo qui Dammi un attimo questo qua Grazie amico E anzi Farei di più Farei di più Qua è un altro di ferro Guarda Lo so che la percentuale è bassa Però Tanto non dà fastidio a nessuno Gravegliamo un po' di gravel E' gravel questa cosa Non c'ho gravel Non ho la gravel Porca di quella paletta Porca di quella paletta Porca di quella paletta Niente Cestica Al volo Una cestica Ah Come sono bravo a fare le cestiche La mettiamo qua per adesso Poi la staccherò Via tutto Ah E dai Solamente questi Solamente il martello Gentilmente Ok Grazie amico Via la torcia Che non mi serve Via la legna Ok Mi dai Ottimo E andrei a fare questa cosa qua ragazzi Zacchete 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 No perché Zacchete Vabbè direi che bastano Ora mi servirebbe La wound Che non ce l'ho Logicamente Quindi andiamo a fare La wound And I want them For you Baby Allora raga Ora qua c'è da fare Una di quelle Nerdate Anglosassoni Sperose Proprio Allora Faccio io Non vi preoccupate Faccio io Faccio io Ho detto Faccio io Voi non mi guardate Faccio io Ho detto che faccio io Non mi guardate Ho fatto la cacata Ho fatto una di quelle cacate Ma come la rompo tutto io Sto cosa Ma ditemi Io come rompo Tutto sto cosa No ho fatto la cacata Mi sa che ho fatto La cacata Ne un po' E te pareva 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 Sì che te pareva Sì che te pareva Voi vedete Luca E quindi che è successo Nulla è successo Mi sono bloccato Come un pirlo Mi sono bloccato No vabbè Non ci sto credendo Riesco arrivare Alla qua Alla cesta Allora mi serve Della legna Della legna Allora me ne servono Nove Nove Ok Quindi Nove nove Facciamo preciso Della cobblestone Che non ho Della cobblestone Che non ho E la cobblestone È qua dentro Ragazzi Oh san crispino Ce l'ho un martellino Ho un martellino Eh ma non ce l'ho Quello lì San crispino Maleducato Allora facciamo così Allora facciamo così Vabbè tanto riesco Ok Grazie amico Grazie amico Ora andiamo a fare Un altro martellazzo Eh ma sono un pirlo Sono stato Proprio un pirlo Sono stato Sono stato Quanti non ho presi Due Oh come due Ah ok Come due dicevo infatti Sono stato un pirlo Io se non faccio un fail Non sono Luke Se non faccio un fail Non sono Luke Nove Eccolo qua Il martellazzo E possiamo finalmente Terminare Z Ok Me li ha fatti tutti Voilà Me li ha fatti tutti Però ho finito quasi il martellazzo Quindi me ne farei un altro Rompiamo tutti questi Z Bam Però ho l'altro Non disperate Ho l'altro Ho l'altro Non disperate stavolta Boom Oh No Quanta roba c'ho Oh San Crispino Quanta roba c'ho Allora facciamo così E iniziamo a Ehm Come si dice Vabbè avete capito no Quella cosa lì Ok allora Tutta questa roba a terra La raccogliamo Un po' la mettiamo qua Uno stack almeno Boom Magari esce qualche diamante L'altra ragazzi Quella compressata Guardate La facciamo qua Oh Perché in poche parole Ci fa nove blocchette alla volta Capito E' figa sta cosa Diamante uscito Diamante signori uscito Perché mi ha dato sta cosa infinito Cos'è sta infinito Grines off infinite Uh A che serve Wow 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 E' una cosa che mi mancava questa qua Wow Grazie E intanto Anche un diamante è uscito Due diamanti addirittura No vabbè No vabbè ragazzi Io direi che si Ho perso un botto di tempo Ma ne valsa la pena Più di un Di un cammello che corre Con le pantofole Eh Ragazzi A parte che siamo quasi a 700 Non mi ricordo quanti mila iscritti Quindi iscrivetevi al canale Ricordatevelo Andate a iscrivervi Al mio canale di pesca Perché siamo quasi ai 100k Ragazzi Siamo a 66 mila Dovete iscrivervi E far iscrivere i vostri amici Dobbiamo Superare Tutto Quello io dentro Ok Il canale è Luke4316 The Fisherman Comunque c'è il link in iscrizione Lo trovate Lo trovate Basta scrivere Luke Pesca O Luke The Fisherman Lo trovate Iscrivetevi ragazzi Tutti lì Che sto caricando anche i video di pesca Oltre che organizzare gare la domenica E a proposito Domenica 28 Anche se piove C'è comunque la gara Portate un keyway Un ombrello Un ombrellone Un qualcosa E venite a trovarmi in cava O a gareggiare Perché no Allora Ragazzi abbiamo fatto un botto qua Qua abbiamo fatto il botto Credo Qua abbiamo fatto il botto Ragazzi Allora diamante Ce l'abbiamo Ok Ora A che mi serviva il diamante Non mi ricordo più Oh San Crispino Ragazzi A che mi serviva il diamante Ah ok Dobbiamo fare il Drawer Controller Drawer Quindi Ricominciamo a fare Ciò che ci serviva Drawer Il Drawer Controller Un diamante Uno di quelli ce l'abbiamo Quindi Tre redstone Quella lì La colza Lì che si chiama Ce l'abbiamo Sì me ne servono due Della redstone Ah la redstone mi serve Mi serve la redstone Però porca Di quella Paletta Anglosassone Ma Vediamo un po' una cosa Vediamo una cosa Ma mi fa anche lei Mi fa anche lei Sì mi fa anche lei Ma esce la redstone In quello di diamante Sapete che non mi ricordo Sapete che Sì è uscita una redstone Sì 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 Me lo fa Me lo fa Me lo fa Me lo fa Tanta roba 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 Aizza guanda roba 15 E sai che potrebbero bastare Certo Certo Mi dai bastonciani Allora Ne facciamo 6 6 Voilà No che cazzo ho fatto No che cazzo ho fatto No che cazzo fa Che è sta roba No vabbè raga Ma che cazzo ho fatto Ma che serve sta roba Ma perché se non faccio fail Non sono contento Io madonna Madonna Guarda madonna Queste dovevo fare Oh San Crispino Sha la 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 San Crispino Sha la 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 San Crispino Sha la 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 Dove sono? Qua Dai che ci siamo E abbiamo anche il controller Abbiamo anche il controller Fatta la quest Ci liberiamo Tutto l'inventacchio Tutto l'inventacchio Ce lo liberiamo E andiamo a vedere Se è nato uno scheletro Si lo sento Lo sento Lo sento Ragazzi Qua c'è un macello C'è un macello Ora Nel prossimo episodio Useremo Finalmente Questo secchio Questo secchio Vi lascio l'hype Per chi non lo sapesse Vi lascio l'hype Useremo Questo Ah eccolo qua Useremo Questo secchio E tutti i mob Si trasformeranno Un bacione Un abbraccio Lasciate like Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Grazie a tutti.